Allora, a me questo calciomercato mi manderà i pazzi, io diventerò scemo, cioè già sono scemo, io diventerò più scemo di quello che già sono, impazzirò, mi vedrete sbattere la testa addosso al muro e basta. Allora, qualche giorno fa ho fatto un video, ve lo lascio qui in alto nelle schede, in cui parlavo delle varie grandi cazzate del calciomercato, e se vi va vi posso pure parlare in futuro di Neymar e Juve, perché ormai tanto qua ragazzi siamo veramente ai pazzi, ma adesso esce fuori, forte, forte come non mai, la voce di Cristiano Ronaldo alla Roma, escono anche le date, ma perché mi volete morto? Io voglio sapere perché volete che io muoia, perché allora se me lo fate sapere, io almeno mi faccio dei calcoli e capisco, allora prima di iniziare ragazzi, vi invito a fare una cosa, dovete scaricare la mia app ufficiale, la mia app ufficiale, numero 10, non ci mettete nulla, trovate il link in descrizione, per me è molto importante che lo facciate, è la mia app, continuiamo tutti insieme, tra l'altro è una cosa clamorosa perché siamo secondi in sport in Italia, trovate tutto, le migliori redazioni d'Italia, le partite, i video, gli influencer, gli eventi, praticamente tutto quello che vi pare, il calciomercato, tutto su numero 10, mi raccomando scaricatela, vi lascio direttamente il link in descrizione e trovate tutte le notizie del mondo, andate a darci un'occhiata, è la mia app, facciamolo insieme ragazzi, detto questo torniamo a noi, Allora, Roma, Ronaldo non è più un sogno, prenotato l'Olimpico per il 29 di giugno e Zaccagni non deve nemmeno fare il baby shower con Chiara Nasti, quindi, pensa te, clamoroso, clamoroso, la Roma ha prenotato, la Roma ha centrato, Un grande, io vi leggo questo articolo ragazzi, ha centrato un grande colpo di mercato e ha prenotato lo stadio olimpico per la presentazione ufficiale la sera di mercoledì 29 giugno, si attende solo l'annuncio ufficiale, fatto sta che oggi, che è il 25, è sabato, mancano 4 giorni e non è stato detto nulla, allora, 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 lasciatemi dubitare, Allora, al di là di, partiamo da un presupposto, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, partiamo da un presupposto, Presupposto importantissimo, non una cazzata, importantissimo, partiamo dal presupposto che, secondo me non abbiamo preso nessuno, non Ronaldo, nessuno, non Ronaldo, cioè, l'Olimpico avrebbero potuto prenderlo anche per Dybala, per dire, che ancora non so perché, non ha firmato con l'Inter, Gazzetta l'ha dato come ufficiale, ho fatto un video e non ha firmato, vaffanculo, però, però, al di là di questo, però, al di là di questo, potrebbe essere anche Dybala, ma per me, non è centrato nessun colpo, altrimenti avresti già fatto un hype della Madonna da giorni, senza lasciare nulla al caso, senza, senza far trapelare Ronaldo, Dybala, o, che ne so, Ederson della Salernitana che è andato all'Atalanta, però l'avresti detto, Quindi sta cosa dell'Olimpico prenotato, per me, è una cazzata, a meno che non si voglia improvvisare un'altra festa conference completamente ad minchiam, questo è latino, a cazzo di cane, questo è francese, a meno che non si voglia fare questo, io sinceramente dubito Immaginate l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Roma dopo la vittoria della Conference League, celebrata nella capitale come una Champions, e grazie al pressing di José Mourinho che ha fatto di tutto nelle ultime settimane per portare a Tricori il suo connazionale portoghese in una sorta di colonia degli Special One lusitani Ecco, tutto questo non è più soltanto un grande sogno, al momento di certo c'è che la città è impazzita, le notizie rimbalzano di minuto in minuto tra i tifosi creando grande euforia E stamani presso le principali società di scommesse avevano già sospeso le puntele su Ronaldo alla Roma per eccesso di ribasso Questo è clamoroso, eh, allora questo è vero, questo è clamoroso, cioè io mi sono rimasto un po', quando ho letto, quando ho letto hanno sospeso il flusso di scommesse sono rimasto un po' così Perché solitamente i bookmaker qualcosa sanno, solitamente, però raga no, raga mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, ma è impossibile, è impossibile Ma non è impossibile, allora facciamo chiarezza, perché poi qualcuno dirà Sic, se un anno fatto avessero detto, Mourinho viene alla Roma per fare la Conference, ci avresti creduto? No, perché non avevamo mai fatto un colpo di questo tipo Ma il problema non è Mourinho, non è la Conference, non è l'Europa League Se io, se tu mi dicessi, secondo te Cristiano Ronaldo, ci verrebbe alla Roma a fare l'Europa League? Ti direi anche sì, anche sì, perché tanto la fa l'United Perché, insomma, ci sarebbe il discorso legato al procuratore, che è lo stesso procuratore di Mourinho Che sta creando la colonia portoghese a Roma, ha portato anche Oliveira, eccetera Addirittura sta parlando del riscatto di Oliveira, mo' giusto per far un favore anche al procuratore Quindi, ti direi anche sì, ti direi anche sì, non è il problema della Roma Non è il problema, se lui non si trova bene con Tenaghe, non è il problema della Roma Il problema è quanto prende, cioè io vi ho sempre detto che la Roma, in questo momento, soprattutto con i Friedkin Non ha problemi a fare un esborso economico importante, ha zero problemi sotto questo punto di vista Però ve lo dicevo quando vi parlavo di Dybala Cioè, vi dicevo, la Roma 6-7 milioni l'anno a Dybala, se riuscisse a fare, gli darebbe tranquillamente Non c'è il problema di dire, so troppi soldi, glieli darebbe Sì raga, ma 6-7 milioni a Dybala, cioè Ronaldo prende 30 l'anno Ma 30 l'anno, ma dove li mettiamo? E non è il discorso di dire di Garrett Bale, perché Garrett Bale ne prendeva 20 Però Bale va in scadenza, non lo vuole più nessuno E fermo praticamente da 5 anni, probabilmente chiuderà un contratto a 4 l'anno in questo momento Perché altrimenti non li prende da nessun'altra parte, se no resta a zonzo Quindi chiuderà, se vuole rimanere a giocare a pallone, in un contratto da 4 anni Da 4 milioni l'anno, scusatemi Ronaldo no, cioè Ronaldo anche se dice, si dimezza, facciamo un conto, no Dice, si dimezza lo stipendio Quanto, quant'è dimezzarsi lo stipendio per Cristiano Ronaldo? Non dimezzarsi, abbassarsi Da 30 passerebbe a 18, 18 l'anno Gli fai un annuale? No, gli fai come minimo un biennale Quindi 18 per 2 C'è il decreto crescita? Se lo prendi entro il 30 di giugno, sì E infatti è stato poi, poi regà proprio per far notizie il 29, proprio il 29 sera E tu devi prenderlo entro il 30 di giugno Poi mi fate, cioè io veramente certe volte mi ci fate credere Io rosico, io rosico come un porco Perché mi ci fate anche credere delle volte come un coglione Perché io fermamente non ci credo Un po' ci spero ovviamente, da tifoso romanista illuso di merda Ci spero, 36 milioni Poi devi fare, per 1.2 Sono 43 milioni di euro, sono quelli lordi Perché c'è il decreto crescita 43 milioni di euro Io voglio capire come fai a pensare di poter pagare l'anno Aspettate L'anno, tu devi pensare di dover pagare all'anno 21 milioni di euro a Cristiano Ronaldo se ti va bene Se ti fa il favore di dimezzarselo da 30 a 18 Ok, 21 milioni e 6 l'anno Quando tu, il giocatore più pagato, lo paghi 5 Cioè, è proprio una cosa che non è, non è umana Che non è umana, scusa Monte, mo, monte, ingaggi Roma Allora, la Roma, la Roma Dà praticamente Allora, considerando che io ho fatto il calcolo lordo Ma possiamo fare anche il netto Ho detto 18, 18 18, diciotto, facciamo 18 milioni Abram è il più pagato, che leggo qui, ne prende 5 Penegrini ne prende 4 5 Più 4, fa 9 E non ci vuole molto Smalling ne prende 3 e mezzo circa E fa 12 e mezzo Mkhitaryan non c'è più Spinazzola ne prende 3 e fa 15 e mezzo E Zaniolo ne prende 2 e mezzo E fa 18 Cioè, tu praticamente, prendendo Ronaldo Se ti fa proprio il favore di prendere 18 Invece che 30 Cosa che non succederà Mai Tu praticamente dovresti pagarlo Quanto insieme paghi Abram, Pellegrini, Smalling, Spinazzola e Zaniolo Raga, non si può Raga, allora, voglio fare un altro calcolo Allora, vi faccio vedere Abram prende 5 Sommiamo i 5 di Abram Ai 4 di Pellegrini Ai 3 e mezzo di Smalling Ai 3 e mezzo di No, mi chiederei, non c'è più Quindi sono 3 di Se si è di Sharawi No, 3 e mezzo di Sharawi I 3 di Spinazzola I 3 di Veretù I 3 di Rui Patrisio I 2 e mezzo di Zaniolo Questi sono i soldi che prendono, eh I 2 e mezzo di Diavara Mamma mia, ragazzi, siamo proprio matti I 2 e 2 di Garzdorp I 2 e 2 di Garzdorp I 2 di Mancini Che ha rinnovato, ma ancora non è detto I 2 di Garlez Peretz L'1.8 del Poro Cristante L'1.8 di Gumbulla Poi c'è L'1 e mezzo di Sant'Onno Lo leviamo che va svincolato L'1 e mezzo di Shomurodov Poi l'1 e mezzo dei Bagnets L'1.3 di Olivera L'1.2 di Vigna Maetla Niles se ne va Fuzzato se ne è andato Afena prende 0.4 E Zaleski prende 0.3 Ok, questo è il monte in gaggio attuale da Roma 46 milioni Ora tu dimmi com'è possibile che secondo voi prendiamo Ronaldo Cioè che praticamente per prendere Ronaldo Se non accetta ridimensionamenti Tu devi fare più 30 E passare da 46 a 76 Cioè ragazzi è una cosa che non sta né in cielo e né in terra Poi io non vi nego che da romanista Un illuso di merda Quali sono? Uno ci spera La notizia più importante che arriva direttante della capitale È che il club gialloroso ha prenotato lo stadio olimpico Per un grande evento La sera di mercoledì 29 giugno Mobilitando personale e strumentazioni tecnologiche in grande stile Con ben 4 gruppi elettrogeni E la previsione di un numero di tifosi enorme Sì ma se questi biglietti non li hai mai messi in conto Non li hai mai messi in vendita Non li ha comprati nessuno Ma secondo te Ma secondo te Ma non nessuno ha prenduto Cioè magari li avete anche prenduto Ma mancano 4 giorni È vero pure che se tu Il 29 mattina Con tutto il rispetto Mi dici Abbiamo preso Ronaldo O abbiamo preso Di Bala Ma anche Di Bala Basterebbe anche Di Bala Tu il 29 mattina Lo dici e dicono Aprirti i biglietti per stasera la presentazione Tu in 10 minuti Hai smantelato 80.000 posti E mi sto allargando 10 minuti Perché la gente sta al lavoro E non è avvisata Dicono al 29 giugno Mancano ancora 4 giorni Quindi probabilmente per l'annuncio ufficiale Bisognerà attendere altre 48 ore Ma tutto porta a CR7 la Roma Ma che cazzo stai a dire Scusate Che sta riportando in Italia Il fenomeno portoghese Irrotta con lo United Per un'operazione non solo tecnica Ma soprattutto di marketing Con Ronaldo la Roma pronta La Roma punta di incasare cifre milionari Per sponsor Pubblicità e vendita di gadget Ma ti ripeto Non lo metto in dubbio Cioè il colpo Ronaldo È un colpo che io farei ad occhi chiusi E io non metto in dubbio Che la Roma possa pensare Di prenderlo Come perno Anche perché Zagnolo Probabilmente andrà via E chi dice Per me chi dice Che Ronaldo non lo vuole Perché ha 38 anni A febbraio È un Scusate È un coglione Ragazzi Non si può Non volere Ronaldo Qualcuno dice Eh la Juve sta ancora pagando Le cause Le problematiche Che gli hanno dato I soldi che ha speso per Ronaldo Ma sti cazzi Ma che me ne va Rega Ma Cristiano Ronaldo Ma stai scherzando Ma io spero che tu stia scherzando Ma se mi prendi Cristiano Ronaldo Ma mi trovi nudo Ma mi faccio i capelli I capelli oro Qui sopra Qui sopra mi faccio i capelli Oh lo dico Mi faccio i capelli gialli sopra Se prendiamo Cristiano Ronaldo Ma stai scherzando Cristiano Ronaldo Ma magari Ma me lo prenderei pure A 64 anni Cristiano Ronaldo E c'è chi fa E c'è chi fa La prima donna Ma no preferirei Berardi Berardi Ma Pia 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 Gli è dato un faccia Berardi Scusate piccolo sfogo Fatto sta che Sono tutte Ilazioni No tutte Si dice il lazioni Comunque non verrà mai Rega non verrà mai Dovete smettere di illudermi Sono tutte illusioni di merda Ecco come è il tema Illusioni di merda Poi Non so Non so chi avete mai fatto Per un grandissimo colpo di mercato Il 29 giugno Presentazione Tutti ne parlano Tutti ne parlano Tutti ne parlano Io non ce la faccio più Diventerò scemo Fatemi sapere Piamo Ronaldo Piamo pure Di Bala Poi facciamo una cosa Prendiamo anche Vital Tanto l'abbiamo fatta a Juve E dai no Mamma mia Che sto male Ce la posso fare Ce la posso fare Ce la posso Ho disperato Ciao